Domani ma la fa adesso, domani ma la fa adesso, quindi domani ma adesso, non è domani, è un pezzo che ti darà domani, che farà parte di un disco che uscirà l'ultima fase di realizzazione. Quindi tu sei preso Maggio, sei anche tu? Sì, questa è un po' l'apparizione del mondo comunale. Allora, vediamo se si apre questa... Sì, questa è un po' l'apparizione. Sì, questa è un po' l'apparizione del mondo comunale. Sì, questa è un po' l'apparizione del mondo comunale. Per quanto un'apparizione del mondo comunale c'è la sua tradizione del mondo comunale. E' un po' l'apparizione del mondo comunale. domani scelte risposte in mille luoghi ti siamo vicini quando rispondi il lago già pensa è la crescita tu non sei sola non puoi buttarti via vicino a te ora è il tuo sole credi a me cercare il cuore troverai, troverai, troverai la verità ma sono nella vita non si può essere 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 un giorno Poi sarai, poi sarai, poi sarai Poi sarai, poi sarai, poi sarai, poi sarai Anche l'amore, coraggio e il sole, qui c'è la sedere, quando mi accendi, l'arco è lottato, il salvo spaiciato. Domani è il giorno speciale, anche l'amore, non ti preoccupare, l'amore lo sai, è nel tuo cielo, accetta lo stai, non ti troverai, serenità domani. Grazie.